Torna ad accendersi l'emiciclo della Basilica di Sant'Ubaldo, con un appuntamento musicale ormai divenuto consueto a inizio settembre. Venerdì prossimo, alle 18.30, per il ciclo di appuntamenti musicali di omaggio all'Umbria, organizzati da Laura Musella, si esibirà nell'area esterna della Basilica Eugubina, ristrutturata negli anni scorsi su intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, una nuova orchestra composta da giovanissimi musicisti. Si tratta della Gioachino Orchestra, diretta dal maestro Urbinate Michele Mangani. In programma, musiche di Britain, Bernstein, Marquez e Piazzolla. Sono memore del successo dello scorso anno, è stata una cosa bellissima, molto partecipata, e poi c'era un tempo magnifico, un tramonto stupendo, poi è stato cantato solo io, proprio nel momento in cui il sole tramontava, un'emozione grandissima. Noi, memori di questo successo, abbiamo riportato un'iniziativa che sempre rientra nelle finalità del progetto Mangia all'Umbria, che è la più importante, cioè la valorizzazione dei giovani di eccellenza. Questa è un'orchestra di 40 ragazzi, di età compresa fra i 13 e i 16 anni, è sbalorditiva la loro bravura, messa insieme da un direttore d'orchestra che è stato di recente alla Scala, che si chiama Michele Mangani, giovanissimo, ha 42 anni. La presentazione del concerto si è svolta alla sala STEMI di Palazzo Pretorio, presenti, oltre alla stessa organizzatrice, anche il sindaco Stirati, il presidente onorario della fondazione Carlo Colaiacovo e il rettore della Basilica, Monsignor Fausto Panfili. Avere a Gubbio una frazione di questo buon lavoro che sta facendo in giro per l'Umbria, per noi è un motivo d'orgoglio. L'anno scorso è stata una bella manifestazione, il tempo ci ha assistito e ha consentito di fare una cosa eccezionale, è chiaro che quest'anno possa essere altrettanto eccezionale, che il tempo ci assista, altrimenti la Basilica è ben lieta di ospitarci per consentire di avere l'opportunità di goderci questa bella e importante manifestazione. Contentissimo di poter accedere proprio attraverso l'aiuto della fondazione a questo concerto che dà con l'orchestra un tono nuovo anche all'emiciclo e ci auguriamo della partecipazione di tutti perché è un'occasione ottima di vedere tanti ragazzi, ci lamentiamo di tanti ragazzi, del lavoro, di dispersione, offriamo qualche cosa di sostanziale in modo che possano veramente imparare e anche capire che con l'impegno si può arrivare a livelli anche abbastanza alti. Monsignor Panfili nell'occasione ha annunciato anche un altro importante concerto che si terrà il 29 settembre alla chiesa di San Francesco a Gubbio dove si ascolteranno per la prima volta brani di canti gregoriani ritrovati in un codice in Francia risalente all'epoca di Sant'Ubaldo. Tra le peculiarità del progetto, omaggio all'Umbria, è stato detto in conferenza, presenti anche il vescovo Cecco Belli e la vicepresidente della fondazione perugina Cristina Colaiacovo sono la promozione del patrimonio naturalistico e architettonico della regione e la solidarietà. Infatti nella serata dell'8 settembre all'emiciclo Ubaldiano saranno presenti anche volontari dell'Unicef Italia che raccoglieranno offerte per i bambini delle aree terremotate della nostra regione.